15 cibi alcalini che prevengono obesità, cancro e malattie cardiache Avere un corpo sano e in forma è la meta di tantissime persone, e lalimentazione svolge un ruolo importantissimo a tal proposito. Esistono alcuni alimenti così ricchi di nutrienti e benefici per la salute da aiutarci a prevenire e trattare alcune condizioni di salute. Fibre, vitamine e minerali sono fondamentali per proteggere la salute. In questo articolo ti suggeriamo 15 alimenti alcalini, ricchi di questi nutrienti, che dovrebbero far parte della nostra dieta quotidiana. . Ortaggi a foglia verde. Poverissimi di calorie ma ricchi di nutrienti, spinaci, cavoli, bietole, lattuga e tutti le altre verdure da insalata dovrebbero far parte della nostra alimentazione quotidiana. . Sono deliziosi e molto benefici. Mirtilli e ribes sono particolarmente ricchi di vitamina C, le fragole sono ottime per la digestione e il cuore, e tutti hanno eccellenti proprietà duretiche. . Uova. Sono ricche di proteine e altri nutrienti che sono fondamentali per il funzionamento del nostro organismo. Oltre ad essere un concentrato di nutrienti e benefici per la nostra salute, questi due ortaggi possono aiutarci a disintossicare lorganismo, espellendo tossine e residui dannosi. . Ananas. Sono ricchi di bromelina, un composto che favorisce la combustione del grasso in eccesso. L'ananas è eccellente anche per disintossicare lorganismo e combattere la ritenzione di liquidi. . Mele. Hanno poche calorie, ma sono ricche di potassio. Possono migliorare la digestione e proteggere il cuore. Barbabietole. Questo eccellente ortaggio regolano i livelli di zuccheri nel sangue, rinforzano i muscoli e fanno perdere peso. . Zucchine. Hanno grandiose proprietà diuretiche, promuovono la salute intestinale e danno energia. Sono ricchi di acqua e poveri di calorie. Agrumi. Sono ricchi di flavonoidi, fibra e vitamina C, migliorano le funzioni del fegato e la digestione. . Cetrioli. Composti al 90% d'acqua, oltre ad idratare combattono la ritenzione di liquidi, il gonfiore e favoriscono aspetto e salute della pelle. Melanzane. Ricchissime di nutrienti e povere di calorie, se non le mangi spesso dovresti cominciare a farlo. . Melone. È eccellente per mantenersi idratati ed eliminare le tossine dal corpo. È alcalino ed è particolarmente ricco di acqua. . Banane. Proteggono il cuore, regolano i livelli di zuccheri nel sangue, facilitano la digestione. Sono particolarmente ricche di manganese, magnesio, potassio, fibra e vitamine del gruppo B. . Sedano. È composto al 95% d'acqua, aiuta a perdere peso ed è un diuretico molto potente. Carote. Ricche di vitamine A e C, le carote hanno eccellenti proprietà alcaline. .